Benvenuti a MeteoGiuliaci.it. Domani tempo in miglioramento, ma ancora nel mattino qualche rovescio e qualche temporale sulle regioni centrali e sulle regioni di nord-est, ancora per l'insistenza della perturbazione numero 6, giunta sabato passato. Ma vediamo l'immagine del satellite, vedete che l'Italia è quasi sgombra da nuvola, ma questa è la situazione prevista nel pomeriggio. Vediamo allora che tempo farà domani, questa è la situazione prevista al mattino, vedete ancora molti rovesci sparsi sulle Venezie e nelle zone interne del centro, persino sulla Puglia, sulla Lucania e l'Alta Calabria. La situazione è prevista al pomeriggio, vedete che migliora quasi ovunque, resta qualche residuo a piovasco nelle zone interne del centro, sul Friuli Venezia Giulia e sull'Alto Veneto. Per quanto riguarda le temperature massime, queste saranno intorno 22-24 gradi al nord, 23-25 al centro, 25-28 al sud e con qualche punta di 30 gradi sulla Sicilia. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.